buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale in questo breve video vedremo quattro pulli di cocorite che hanno all'incirca 10 15 giorni di vita ecco buona visione e vi ricordo di iscrivervi al canale per darmi un supporto e per restare sempre aggiornati ciao a tutti e buona visione iscriviti al canale ciao